Siccome il check-in, il campeggio si poteva fare fino alle 7 e mezza, Cristina ha pensato e ha detto ma perché non facciamo una piccola camminata? 4 ore di camminata, 2529 metri. Signori, benvenuti sulle Dolomiti. Lasciamo Passo San Pellegrino e raggiungiamo in breve il campeggio Rosen Garden. A Pozza di Passa. Ovviamente, sapendo del nostro arrivo, il paese si era già organizzato. Il campeggio, curato nei particolari, tranquillo e pulitissimo, è posizionato in modo strategico per le escursioni che avremo fatto nei giorni successivi e si è rivelato sicuramente una scelta vincente e per questo noi ci sentiamo di consigliarvelo. No, 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 lascia lì! No, dall'ora per tua io bevo, no, è capitato. Ok, ok, adesso vedremo il disastro sulla bustia, sulla frittata. Ma proprio lì, che dopo non possiamo salvare niente. Oddio, aiuto, aiuto! Aspettura. E' così, 40 anni di cucina, questo è imparato. A farla frittata. Il giorno successivo partiamo da Passo Costellunga per raggiungere Forcella Latmar. Prima uscita, prima escursione. Oh, if you would show me I got money busting out the money clip. Cri, cosa ti sembra? Cri, guarda, parole non esistono, veramente. Cioè, è sufficientemente panoramico? Giusto un po'. Giusto? Volevi qualcosa di più? Ma diciamo che mi accontento. Va bene? Ok, d'accordo. Allora, volevo mostrarvi una cosa divertente. Non so se vedete quel pino lì. Bene, quel pino lì a Natale fa il dito a tutti quei pini lì. Perché è chi lo taglia quello lì? Cristina, cosa avevi detto tu? No, non si ripete. A rientro decidiamo di visitare il famosissimo lago di Carezza. Senza dubbio turistico, ma da vedere assolutamente. E poi in un'oretta ve la cavate. E noi questa mattina eravamo lì. Alla sera, grigliatina, un po' di relax e poi pronti per la seconda escursione. Questa volta partiamo da Pozza di Farsa. Prendiamo la funivia, direzione Baitacuz, per poi percorrere il panoramico 613. Prendiamo la funzione. e con i capelli spettinati di Cristina che hai cercato di aggiustarseli come sempre dalla cabinovia purtroppo dobbiamo dire che il nostro weekend lungo è finito le dolomiti sono sempre meravigliose cosa incredibile noi siamo Trekking Friuli Venezia Giulia grazie di essere arrivati fino a qui il nostro canale racconta delle camminate in montagna nella nostra bellissima regione però ogni tanto anche noi andiamo in ferie e quindi niente alla prossima se vi è piaciuto iscrivetevi al canale ciao a tutti ciao 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 ciao